Studiare molto, essere aggiornati in quello che sceglieranno essere il loro futuro e il loro linguaggio, trovare un segno personale e individuare bene le aziende alle quali vogliono presentarsi prima di farlo, studiarle di fatto un po' prima di presentarsi da loro. Sulle basi della propria indole, nella creatività è molto importante, sulla base di quella che è la sensibilità a cui ci si riferisce, avere tante quelle che chiamiamo tante reference, quindi tanti obiettivi, tante anche fonti alle quali attingere per farsi venire delle buone idee e anche per trasformarle poi in dei prodotti che funzionano. Gli atteggiamenti ovviamente sono tanti, se si è studiato bene chi si ha di fronte evidentemente è più facile, il che significa presentarsi in modo comunque ordinato, disciplinato, coerente, affidabile, però senza aver paura di mostrare quella che è la propria espressività, la propria creatività, di rispondere in modo fantasioso se è necessario. Diciamo che in genere la curiosità e l'originalità vengono apprezzate sempre da tutti. Per quello che ti piace fare sì, ci sono come in ogni percorso delle autostrade e delle piccole strade che però ti fanno arrivare prima senza incontrare tanti competitor sul tuo cammino, quindi quello assolutamente sì. Fare la buona scelta, la giusta scelta è importantissimo in questo momento. Trovare, alimentarsi in continuazione, non aver paura di chiedere dal grande maestro fino al tecnico del suono che sta dietro una videocamera, cercare di rubare molto con gli occhi da tutti e soprattutto essere molto aggiornati. Con internet è piuttosto semplice seguire tutorial, cominciare a entrare in modo un po' più indipendente, di arrivare a una consapevolezza maggiore da soli. Questo in realtà è fondamentale. No, non lo è più che in altri settori, peraltro l'Italia ha un'industria creativa ma anche proprio un'industria dell'intrattenimento, dell'informazione, della comunicazione e dell'arte molto forte. È un mercato però molto competitivo sul piano internazionale. Partiamo con dei beni che sono insuperati al mondo e quindi difficile non è. È difficile se non ti formi nel modo giusto e con una prospettiva che è davvero internazionale. Sicuramente quello delle nuove tecnologie, che questo nuovo però ogni sei mesi cambia, è un aspetto molto importante, un ambito di mercato che peraltro ha diversi asset e che va quindi dalla comunicazione al design, dal design anche ovviamente alla moda e all'arte per cui è molto importante. Altri campi sicuramente di sviluppo sono quelli che poi oggi sono oggetti di nuove imprese, quindi anche di forme di fantasia, di originalità che sono forse più di nicchia ma che poi fanno parlare dell'Italia molto all'estero, molto più spesso di quanto in realtà lo faccia la grande industria di mercato. Una startup non è semplicemente un'impresa, una nuova impresa, sono due cose diverse. Cercare di creare una startup vuol dire comunque aderire a un processo guidato e agevolato di finanziamenti, di management, di promozione, di comunicazione, per cui se vuoi è un processo che va preso in modo un po' più sobrio di quanto viene presentato spesso. Quindi in realtà è facilitato dal punto di vista della gestione, però è molto più impegnativo dal punto di vista del progetto che c'è dietro. Non basta una buona idea se non c'è il progetto di sviluppo di quell'idea. Deve essere un progetto di medio o lungo termine, quindi che possa creare benessere per chi imprende dai cinque anni in su.